Un Avellino, grande con le grandi, dopo il Verona anche la spalla deve alzare bandiera bianca contro i lupi al partenio Lombardi, merito del coraggio e della grinta famelica della squadra di Mister Novellino, con il tecnico che in un battibaleno spazza via paure e timori, osando nell'ampio turnover. Una metamorfosi quella della squadra erpina nel giro di pochi giorni, dalla prestazione totalmente negativa a Terni contro il fanalino di coda a quella bella e convincente contro la vicecapolista Spal. Eusepio era al quarto della ripresa a regalare i tre punti preziosi in ottica salvezza. L'attaccante, che era finito un po' nel dimenticatoio nelle ultime gare, viene schierato a sorpresa dall'inizio e ripaga la fiducia nel miglior modo possibile. Mettuto l'ingranaggio bianco-verde a funzionare alla perfezione, tatticamente e tecnicamente, perché si sa quando sfoderi gli artigli dal punto di vista caratteriale ogni missione è possibile. E così il giorno dopo l'Avellino e i suoi tifosi si godono questo successo così importante e prezioso, ma l'euforia dovrà ora trasformarsi già in massima concentrazione, perché il campionato di B è estenoante e non concede soste. Lunedì sera si ritorna in campo al Matusa di Frosinone contro un'altra grande, la capolista del torneo cadetto, che ieri soffrendo è riuscita a strappare il pareggio al 91esimo a Cesena, con il primo gol stagionale dell'ex Mokulu. In cioceria Novellino dovrà fare a meno degli squalificati paghere d'ardemanni, ma quasi certamente anche il tecnico di Montemarano sarà in tribuna per squalifica, al suo posto in panchina la vellinese Edoardo e Mimbo. Sugli spalti sarà festa grande, le due tifoserie sono legate da un bellissimo rapporto di amicizia, così come le due società, ed allora è pronto l'esodo a Frosinone, con i lupi che sulle ali dell'entusiasmo sono smaniosi di sgammettare anche i frusinati per completare il ciclo delle grandi e risultare così decisivi anche per la corsa alla Serie A. Grazie 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 Grazie